guarda che è l'ultimo, questo è l'ultimo, poi andiamo da Mario e da Matteo mamma, 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 voglio fare l'acqua, l'ultimo, vai là, vai là, per favore, vieni, 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 v Allora, metti qui, ma no, perché sennò ho studiato un po' davanti. Ma sono saluto un po' di tempo a fare. Eh, beh, perché sono le prime volte piccole.